E buongiorno amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi puntata straordinaria perché ieri abbiamo saltato sia la live che il flash update visto che ero in viaggio di ritorno da Roma, ve lo avevo anticipato e visto che ogni promessa è debito e vi avevo promesso per l'appunto che il flash update non salta ecco che lo recuperiamo oggi. In questo modo tra l'altro riusciamo a fare il punto sul mese di maggio che si è appena chiuso dando un'occhiata ai grafici mensili, alla candela mensile diamo una rinfrescatina alla price action anche di breve vediamo un po' cosa sta succedendo in particolare il flash dip, non lo chiamerei crash, di ieri ha generato guardate una reazione che commenteremo tra poco, reazione molto curiosa e poi andiamo un po' a commentare le notizie del momento notizie soprattutto che hanno a che fare con il mondo politico in quanto Biden ha messo in piedi una sorta di colpo di scena misto che prima ha fatto pensare che avrebbe potuto cambiare idea addirittura lui, uno degli hater principali così viene definito del mondo cripto uno dei politici più anti cripto che è sempre stato così con la sua amministrazione e poi ieri ci ha fatto un'altra sgradevole sorpresina che commenteremo tra poco andremo anche a commentare il mondo ETF Ethereum su cui ci sono i primi sviluppi e si potrebbero già vedere sul mercato entro giugno e vediamo quindi come potrebbe ciò impattare sul mercato stesso andiamo a vedere anche il grafico di Ethereum per essere sempre aggiornati e poi ultimo ma non ultimo ragazzi arriva il launchpad non launchpool ma launchpad di BWB il tanto atteso token del BitGetWallet che finalmente ci permetterà anche di convertire i punti farmati in token quindi come vedete un bel po' di cose come sempre di cui parlare e facciamo il punto in questo flash update rapido, conciso e dritto al sodo se come sempre lo apprezzate ragazzi droppate un bel like anche di sabato mattina siamo qui sul pezzo e quindi non può mancare il vostro io c'ero iscrivetevi ovviamente al canale se ancora non siete iscritti e ci tenete a rimanere aggiornati informati e sul pezzo su tutto ciò che c'è da sapere sul mondo delle cripto e che dire innanzitutto buon inizio giugno a tutti voi spero di avervi incontrati in tanti a Roma ma io so che ve li ho incontrati in tanti però non so se siete voi che seguite anche i nostri video siete sempre sul pezzo comunque è stato molto bello ci siamo divertiti adesso si torna però belli carichi a seguire questi mercati che sono molto caldi guardate il mensile ma aspettate in realtà ci tenevo a farvi vedere una cosa ora che la vedo qua in alto prima anche di osservare i grafici stessi ovvero il meme del giorno ieri ero in treno stavo tornando davo un'occhiatina su X sui vari social su ciò che succede e qualcuno di voi mi ha passato questa cosa e mi ha fatto morire dal ridere lo giuro questa notizia che proviene da una pagina in realtà di un altro social di notizie italiana scusate non ce la faccio a guardarla senza ridere la notizia recita false residenze 30 milioni di bitcoin in sterline ma che cosa vuol dire io ragazzi vi giuro ci ho pensato l'ho riletta 5 o 6 volte ho detto non riesco a trovarci un senso 30 milioni di bitcoin in sterline poi 50 milioni erano trapezie preziosi bitcoin nascosti in un cassetto benissimo mi immagino la scena delle once di bitcoin nascoste in un cassetto l'unica soluzione che mi sono riuscito a dare è che hanno invertito bitcoin e sterline mi auguro 30 milioni di sterline in bitcoin nascosti in un cassetto è bellissimo niente commentate voi insomma interpretatela voi questa notizia fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e spero che vi piaccia questo angolo del meme perché si trovano talmente tante cose divertenti che ho detto io ve le devo condividere cioè il meme del giorno sarà un nostro appuntamento per spezzare un po' la monotonia del mondo cripto selezionato ovviamente tra i più freschi e i più belli che si trovano e c'è veramente ampia scelta torniamo seri dai torniamo sul pezzo con la nostra analisi della candela mensile che in realtà se vi ricordate ci avevamo già dato un'occhiata nei giorni scorsi e non è che sia cambiato granché anzi non è cambiato pressoché nulla interessante come se ci fate caso anche nel mese di maggio appena terminato la candela si è proprio inserita all'interno vedete del range definito dalle due candele precedenti quindi abbiamo range low 61,4 range high 71,4 il solito c'è stata questa sorta di inside bar nel mese precedente che ha confermato per l'appunto la formazione di questo range nel mese di maggio abbiamo avuto un attacco ai massimi un attacco ai minimi l'attacco ai minimi un po' più forte abbiamo avuto anche lo sweep se ci fate caso ma sweep assorbito quindi di fatto la soluzione la situazione scusate non è cambiata l'attacco ai massimi non ha neanche sweepato i massimi locali quindi diciamo domanda leggermente più in difetto più debole dell'offerta ma la struttura rimane quella quindi potremmo stare qui a fare mille lucubrazioni la struttura rimane assolutamente laterale fino a prova contraria la prova contraria è bull case sweep dei 74.000 e chiusura sopra i 71.4 quindi nuovo ciclo di price discovery verso nuovi massimi mentre il bear case ecco in questo caso avendo generato dei nuovi minimi locali a 56.400 il bear case diventa sweep dei 56.400 e chiusura sotto i 61.4 61.3 insomma questa area qui sapete essendo time frame mensile non è che c'è proprio la chirurgia no l'importante è che ci sia lo sweep dei minimi locali e una conferma di offerta che sovrasta la domanda quindi una chiusura appunto in queste aree sottostanti in caso di bull case non abbiamo un vero e proprio target lo avevamo lo avevamo dato per giocare facendo l'estensione di fibonacci se vi ricordate il target diciamo di un'eventuale estensione vera in caso di nuovi massimi potrebbe essere tra i 100 i 103.000 ma ripeto è un gioco gioco sfera di cristallo usando l'estensione di fibonacci e paragonando col passato mentre un target nel bear case è un po' più diciamo concreto proprio perché si basa su dati storici più recenti e abbiamo come target 45.000 e 5 48.000 quest'area che vedete evidenziata in verde e quindi stiamo un po' a vedere ora come si risolverà il range e da lì poi andremo a evolvere un po' la nostra analisi per il momento questi sono i due scenari e le condizioni la struttura quindi tutto ciò che accade nel mentre è irrilevante perché la struttura rimane di equilibrio e lateralità sul breve valgono direi delle considerazioni abbastanza analoghe vedete abbiamo avuto un po' di attacchi ai 67.200 che è un livello di supporto che sull'intraday sul brevissimo si è venuto a creare come potete notare è un livello molto attaccato è molto importante in realtà nonostante sia sull'intraday perché prima ha fatto da resistenza prima dell'ultima leg up fino ai 71.000 quella che abbiamo visto anche essere la upper shadow della candela mensile e ha fatto da resistenza qua poi ha iniziato a fare da supporto una volta due volte tre volte vedete è sotto assedio neanche attacco e tra l'altro come vedete si denota anche qua un po' di debolezza della domanda poiché i massimi sono decrescenti abbiamo equal lows e lower highs questo ripeto sul breve questo è un time frame intraday giusto per osservare le micro dinamiche quindi volendo potremmo anche andare a dire se qui andiamo a creare ovviamente un breakdown è un catalizzatore per accelerare un po' l'offerta e andare a testare addirittura se si propaga il range low ma come funzionerebbe allora innanzitutto abbiamo la prima prima condizione per l'appunto la perdita dei 67.200 che però come vedete ci sono tanti diciamo punti da sweepare infatti non è facilissimo andare a identificare un movimento effettivo di breakdown da qui io direi che una condizione potrebbe essere uno sweep deciso di questi livelli e in più una chiusura confermata almeno da qualche candela sotto i 67.200 però vedete che qua c'è un'altra area diciamo grigia un'area intermedia dove il prezzo ha gravitato per un po' prima proprio dell'ultima leg up e forse è qua sotto il livello più importante da dire perso e da esaminare se viene perso per l'eventuale propagazione verso il range low ovvero i 64.600 situazione ripeto molto rumorosa molto difficile da analizzare proprio perché le dinamiche intraday spesso sono così ci sono tanti livelli tanti movimenti e un po' di rumore per l'appunto falsi movimenti molto frequenti e così via io ve l'ho detto solo anche per dare un'occhiata anche più da vicino che so che tanti di voi apprezzano perché me lo chiedete spesso quindi io cerco ovviamente di accontentarvi il più possibile però ricordatevi che ecco la partita alla fine si gioca su time frame più elevati e la struttura dominante è sempre attualmente quella di range detto questo vi faccio vedere un ultimo dato curioso sempre che ha a che fare con le micro dinamiche guardate in corrispondenza di questo flash crash flash crash perdonatemi flash dip non è un crash non voglio ovviamente essere allarmante sotto i 67 mila che c'è stato poi ieri a tutti gli effetti guardate l'open interest che saltellino ha fatto questo indica chiaramente una sorta 3% di open interest aumentato durante il flash dip non è poco è mezzo miliardo così giusto per farvi vedere è una sorta di buy the dip una posizione insomma speculativa aggressiva che è stata presa proprio in corrispondenza se ci fate caso la candela più alta di open interest è esattamente in corrispondenza con questa candelina tutta shadow quindi qualcuno ha caricato a dovere qua sotto questo cosa vuol dire è da un lato che qualcuno ovviamente ha aperto una posizione ovviamente long oserei dire perché aprire uno short su una candela di questo tipo non lo capirei vabbè ma presumibilmente è un long ripeto e quindi si sente particolarmente bullish ma la cosa che ci interessa di più perché può anche sbagliarsi chi si sente bullish è che qua sotto ecco prima parlavamo di livelli da tenere sotto controllo sulle microstrutture bene i 66.6 potrebbero essere il nostro livello proprio perché vedete qua sotto andrebbe manderebbe underwater questa posizione questo mezzo miliardo quindi attenzione eventualmente alla reazione del prezzo e al possibile attacco al possibile assorbimento di questo livello questo ecco è ciò che potrebbe andare ad accelerare un eventuale inciampino bene ora passiamo avanti price action chiusa possiamo beh Ethereum ci diamo un'occhiatina dopo non è che si sia mosso tanto ma adesso andiamo al tema un po' del giorno ovvero il colpo di scena Biden colpo di scena su Bitcoin doppio colpo di scena perché sapete che l'amministrazione Biden si è sempre dimostrata anti-crypto non è mai stata particolarmente incline ad aiutare le aziende crypto anzi si è sempre schierata dalla parte della SEC con la SEC e probabilmente ha influenzato anche le decisioni della SEC proprio al fine di ostacolare questa industria imponendo regole difficili cercando di rallentare quello che è stato il progresso insomma questa è l'accusa che gli viene spesso fatta dalle aziende appunto che ci lavorano e dalla controparte politica come il senatore Lammis che è sempre invece stata lei pro-crypto che gli viene appunto fatta l'accusa di essere schierati di voler ostacolare proprio le crypto per difendere un po' i loro interessi e quindi questo insomma si trasforma in regolamentazioni ostili cosa era successo? sapete che in questi ultimi giorni c'è un po' il dibattito avvicinandoci in periodo elettorale di Trump versus Biden e il ruolo di Bitcoin nella politica Trump lo sta cavalcando alla grande schierandosi invece apertamente pro-crypto e quindi questo ecco si pensa possa influenzare in qualche modo gli elettori soprattutto gli elettori a cui è caro questo tema che sono sempre di più negli Stati Uniti sono nate delle associazioni come Stand With Crypto di Coinbase ma non è l'unica ci sono tante donazioni a queste associazioni che supportano i candidati politici pro-crypto ragazzi è un tema di spessore non trascurabile non ignorabile addirittura questo era il primo colpo di scena risalente al 30 maggio quindi due giorni fa Biden sembrava essere anche lui in procinto di cambiare punto di vista di cambiare di correggere il tiro vedete rispetto al mondo crypto cos'è che l'ha fatto pensare l'ha fatto pensare il fatto che sembrava che stesse parlando con dei rappresentanti dell'industria per interessarsi alla sua evoluzione e pensare addirittura delle politiche di sostegno cosa che ha fatto dire oh mio dio veramente che lui che è sempre stato anti-crypto sta pensando a questo questo cambia tutto davvero è un qualcosa di molto nuovo molto strano e addirittura vedete cambiamento significativo le fonti interrogate cioè chi comunque era vicino a questo tema chi ha seguito un po' questo questo discorso qua ha parlato addirittura di un cambiamento significativo da parte dell'amministrazione Biden consapevole che l'impatto che le crypto potrebbero avere nella corsa presidenziale nelle elezioni non è poco e quindi insomma mi conviene quasi quasi ritrattare la mia posizione e farmi amici anche a me gli elettori crypto friendly e poi c'era uno dei temi la sub 121 che adesso andremo a vedere meglio che è una legge di contabilità che era stata insomma proposta dalla SEC soprattutto che è quella famosa che prevede il trattare le crypto detenute dalle aziende come se fossero liabilities e quindi detieni un miliardo di crypto e devi detenere un miliardo di dollari per pareggiare cosa che rende complicata la gestione ad esempio della contabilità per chi detiene crypto per i suoi clienti no? devi detenere altrettanto cash cosa pressoché impossibile e infatti l'altro tema era quella proposta di legge che il congresso aveva appunto avanzato al fine di abrogare la sub 121 e questo era un po' il dibattito del momento no? il congresso aveva votato a favore tra l'altro di questa abrogazione e addirittura gli stessi democratici avevano non tutti ovviamente ma alcuni di loro avevano votato a favore e questo insomma aveva è un po' il preambolo che cos'è successo? da una parte c'era questa notizia questo primo colpo di scena ieri secondo colpo di scena quindi doppio colpo di scena uno dietro l'altro ha cambiato idea eventualmente no? si vede che ci ha ripensato forse c'entra anche il fatto che Trump è stato dichiarato alla fine colpevole insomma sono cambiato un po' di colpevole per il caso Stormy Daniels però è il primo candidato alle presidenziali con una dichiarazione di colpevolezza a suo carico quindi non so se tutto questo ha fatto cambiare idea Biden sul possibile esito delle elezioni non lo so ma sta di fatto che ieri secondo colpo di scena è stato imposto il veto per quella proposta che vi dicevo che prevedeva ad abrogare la sub 121 quindi non verrà abrogata perché Biden ha vietato questa cosa sapete che l'ultimo passo è il suo quindi di nuovo Biden si ridimostra essere anticripto proprio perché questa normativa vi ho spiegato quello che fa va a mettere veramente i bastoni tra le ruote vedremo se poi in realtà questo è una sorta di dire questa non la vietiamo ma magari andiamo a fare una cosa più intermedia perché quella proposta da voi era un po' troppo aggressiva dall'altra parte insomma vedremo gli sviluppi ma per il momento questa è un po' la situazione non so cosa ne pensate fatemelo sapere anche voi ma sembra proprio insomma non lo so la percezione è che Biden non stia tanto cambiando idea anzi vuol fare quello che gli viene un po' più comodo e magari adesso che ha visto Trump indebolì da quest'ultima insomma novità dal fatto che è stato dichiarato colpevole ha ritrattato appunto il suo punto di vista vedremo ripeto ne seguiremo gli sviluppi voi come sempre seguiteci anche su Telegram per essere aggiornati su tutto in tempo reale senza dover neanche aspettare i video e avendo anche le nostre analisi e tutto ciò che conta sempre a portata di mano link in descrizione cambiamo ora di nuovo argomento rapidamente TF Ethereum ci sono novità importanti ovvero di nuovo si sono un po' accelerate le cose la SEC aveva fatto richiesta di inviare i primi emendamenti le prime modifiche al filing S1 che ricordiamo è quello che i fondi devono inviare alla SEC ed è contenente le caratteristiche del fondo stesso quindi insomma chi fa i movimenti chi fa il minting e la redemption le commissioni tutti quei discorsi lì tutti diciamo i tecnicismi del fondo stesso ed è quello che richiede un po' più di tempo sapete che l'altro è stato già approvato quello degli exchange per il listing quello che manca è proprio l'S1 quindi il primo giro dicevano deve arrivare entro venerdì infatti ieri sono arrivati tutti alcuni contenevano già addirittura anche le commissioni e anche qua c'è un piccolo shock no? perché commissioni molto basse ve lo dico anche subito guardate franklin è il primo che ha annunciato le commissioni del suo etf etere un 0,19 annuo esattamente come per bitcoin bassissime ragazzi sono veramente basse comparabili agli etf sull'azionario più mainstream quelli world e simili no? per capirci e quindi questo fatto di solito dicono ci si aspetta almeno due round di questo tipo quindi SEC che chiede nuove informazioni fondi che gliele mandano la SEC che li approva e di questo è un giro e ci si aspetta almeno due giri il primo è stato fatto adesso vediamo la SEC cosa dirà perché loro hanno mandato le loro proposte la SEC le andrà a valutare eventualmente chiederà ripeto altre modifiche si valutano altre modifiche si valutano eccetera 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 finché non si giunge a una quadra e allora arriva l'approvazione ci si aspetta dunque 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 vediamo dov'è eccolo qua il nostro Enrico Balcone così come gli altri analisti si aspettano viste queste nuove dinamiche e le tempistiche che il trading potrebbe arrivare già anche alla fine di giugno ok visto che appunto adesso abbiamo abbiamo già finito il primo giro lato fondi e che dire poi sarà il solito discorso che abbiamo già fatto mille volte ci sarà da osservare quanto esce da grayscale quanto entra negli altri bla 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 per il momento si può solo fare dei giochi di stime che lasciano forse un po' il tempo che trovano il tempo ci dirà un po' cosa accadrà quello che accadrà di fatto mercato Ethereum per il momento un po' assopito abbiamo questa sorta di vedete canale laterale una cosa del genere insomma sembra un triangolo ascendente sul brevissimo ma sono veramente pippe mentali la struttura rimane quella che vi dicevo non abbiamo variazioni strutturali importanti equilibrio sul settimanale abbiamo non abbiamo ancora un attacco agli high quindi o facciamo un higher low torniamo a rimaniamo comunque in equilibrio finché non rompiamo 006 non abbiamo inversione strutturale degna di nota andando avanti che cosa abbiamo di bello abbiamo una notizia un rumor prendiamolo come tale è un rumor secondo delle persone familiari source person familiar no scherzi a parte comunque la DB è una fonte abbastanza autorevole per quanto mi riguarda quindi io ve la riporto però come rumor non come dato di fatto secondo delle persone degli insider diciamo il CME che è il insomma dove dove c'erano anche i futures su bitcoin ed ethereum non ha intenzione non ha piani al momento di offrirli su solana e come sapete gli etf spot richiedono che siano listati prima i futures per il momento questa è la regola che limita di più il fatto della comparsa di etf spot su altre cripto e al momento sembrano non esserci piani di cambiare le cose altra notizia ampassante lampo iniziano i 4 mesi di prigione di CZ in California una prigione a bassa sicurezza quindi insomma si sconterà la sua pena abbastanza in relativa tranquillità e poi è libero addirittura con si stima dov'è che l'avevo letto il 90% delle quote di Binance ragazzi CZ è uscito proprio alla grandissima da tutto questo ultimo ma non ultimo ragazzi il launchpad di BWB non perdetevelo se vi interessa perché è uno dei token più hypati noi li stiamo farmando li abbiamo farmati anche sul BitGet Wallet con i punti sapete c'era tutta la cosa degli swap e mica swap allora abbiamo un prezzo iniziale che è già una cosa non da poco per farsi un'idea del potenziale valore di BWB e il launchpad stesso quindi potete partecipare in due modi detenendo BGB o detenendo USDT più ne detenete sull'exchange più possibilità avete di partecipare ok più la quota è alta questo è un meccanismo simile al launchpool ma non si farma in questo caso voi avrete un'allocazione proporzionale appunto a quanti BGB e USDT detenete sull'exchange è partito oggi lo snapshot primo giugno quindi affrettatevi se vi interessa partecipare e detenere BGB e USDT sull'exchange e alla fine si fa il calcolo della vostra quota se volete se accettate insomma la quota che avete potete acquistare i BWB al prezzo launchpad scusate che è di 0,15 dollari 15 centesimi di USDT in BGB il prezzo verrà determinato alla fine perché ovviamente BGB è volatile ma sarà sempre 15 centesimi convertito in BGB questo è il funzionamento del launchpad molto semplice quindi depositare BGB o USDT più se ne ha più si ha allocazione e alla fine si compra 15 centesimi in base a quanta allocazione si ha BWB lo conoscete già il listing avverrà il 6 giugno alle ore 14 avevo letto da qualche parte non ricordo bene ma dove ma fidatevi perché l'avevo letto ve l'avevo anche condiviso già su Telegram quindi rimanete seguitemi anche su Telegram per essere aggiornati anche sul launchpad su tutto 6 giugno alle 14 italiane esatto c'è il listing e quindi anche la possibilità di convertire i punti in token tra l'altro se voi collegate il vostro BitGet wallet con il profilo di BitGet c'è tipo un predeposita si chiama una cosa del genere e vi permette di depositare i vostri token i vostri punti su BitGet prima del listing per essere tipo i primi ad accedere al mercato e quindi sappiate che c'è anche questa possibilità ragazzi io con questo avrei chiuso vi auguro un buon weekend spero che abbiate apprezzato questo flash update rapido e dritto al punto noi ci rivediamo lunedì in live perché lunedì ci sono parola mia amici di nuovo buon sabato buon weekend buon giugno e buon Bitcoin a tutti buone cripto a tutti ciao ciao ciao